Ciao ragazzi, sono Mattia Rockgod e ben ritrovati nel mio canale per un'altra recensione. In questo video ci spostiamo su Netflix, voglio parlarvi di un film per il quale avevo aspettative abbastanza alte, ma purtroppo sono state parzialmente deluse. C'è comunque un po' di positivo in questo film, ma anche un po' di negativo, purtroppo. Nonostante sia una pellicola di un'oretta e mezza e poco più, rimane una pellicola per la quale avrei voluto vedere qualcosa anche di un pochino più ispirato, o comunque anche un pochino più violento. Non mancano le scazzottate, qualche sparatoria, però... Ecco, non voglio dire che non ci siamo per niente, però abbiamo rischiato di arrivare lì. Il film si chiama Mother's Day, cioè la festa della mamma, film polacco del 2023. Il regista è alla prima prova, ci può stare e non fare un film emozionante o comunque un film da, che ne so, voto 9 barra 10, però comunque il rating è stato più o meno misto barra sufficiente. quando è uscito. Il film originale Netflix, la protagonista è interpretata da Agnieszka Groszowska. Lei la riconosco assolutamente perché ha recitato in uno dei miei film preferiti per quanto riguarda il genere storico, che è In Darkness, sempre appunto polacco del 2011, un film sulla Shoah di Agnieszka Holland. Lei faceva la parte di Clara, un personaggio che da secondario poi diventa molto importante. Vi consiglio di recuperarlo in Darkness. si trova anche in DVD, io l'ho recuperato anni e anni fa e è un film della Madonna pure quello. Questo purtroppo invece è decisamente diverso e anche molto molto sottotono. Peccato veramente anche per il contenuto violento, perché sì, ok, ci si mera, ci si spara, però non raggiunge i miei standard. La trama invece però lo tratta molto carina. Nina, la protagonista, è un ex agente speciale che in teoria dovrebbe essere morta, perché si vede poi la sua tomba, ma in realtà vive nell'ombra perché vuole a tutti i costi recuperare il figlio che non ha mai conosciuto, che è stato adottato da altri due genitori. Peccato che poi si scopra che c'è un gruppo criminale che traffica esseri umani e questo ragazzo, di nome Max, è molto prezioso per questo gruppo e Nina farà di tutto per prenderselo. Ci sono ovviamente anche dei cambi di bandiera, c'è tipo un tizio che dà una mano a Nina ma poi si scopre essere un tizio in combutta con i criminali, insomma un sacco di cose succedono e abbiamo comunque una narrazione abbastanza scorrevole. Dico abbastanza perché ci sono appunto dei punti morti e il livello di attenzione va ovviamente a calare. Però tutto sommato l'ho voluto promuovere perché comunque anche per quanto riguarda alcune scene di violenza la Grossovska se la cava abbastanza bene. Brava a recitare comunque. La cosa interessante che ho notato però è che nel ruolo di Nina non dice molte battute. Devo dire che è un personaggio che parla veramente poco però vuol dire che magari il regista non aveva in mente di farla dialogare tanto. Ci può stare, è il regista che comunque coordina tutti gli attori, lo sceneggiatore scrive la trama poi il regista ovviamente la deve comunque approvare, deve fare dei cambiamenti. Però devo dire che far parlare poco il personaggio della Grossovska l'ho trovato un elemento piuttosto azzeccato magari anche per sottolineare un po' il velo di mistero che aleggia sul suo personaggio. Veramente complimenti e che dire poi alla fine comunque. Comunque è un film da piena sufficienza. Vi ho voluto dare un 6 e mezzo, il 6 per il film in generale, un mezzo punto in più perché c'è la Grossovska che comunque a me piace molto come attrice. Nonostante abbia visto solo questo è In Darkness come film in cui ha recitato. Però se riesco a coprire qualche altra pellicola perché no? Bene ragazzi direi che possiamo arrivare alla fine del video. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.